In occasione del centenario della prima guerra mondiale, tante le iniziative nel capoluogo molisano. All'evento ha preso parte anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano, che ha sottolineato l'importanza del sacrificio di tanti italiani. A Lanciano, grande partecipazione da tutta Italia per la manifestazione nazionale, Noombrina, salviamo l'Adriatico. Dal Basso Molise è presente anche l'amministrazione comunale di Termoli e il Movimento 5 Stelle. Non si spengono le polemiche tra maggioranza e coalizione civica a Palazzo San Giorgio. Intanto si preannuncia una settimana densa di impegni per l'assise civica, che tornerà a riunirsi domattina per discutere del conto consuntivo. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. In occasione del centenario della prima guerra mondiale, tante le iniziative nel capoluogo molisano. All'evento ha preso parte anche il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano, che ha sottolineato l'importanza del sacrificio di tanti italiani. Vediamo. Grazie a tutti. Nella preziosa cornice del Teatro Savoia di Campobasso è l'inno di Mameli ad aprire la tavola rotonda organizzata in occasione della celebrazione del centenario della prima guerra mondiale. Una giornata per ricordare il sacrificio di 650.000 caduti militari e circa 600.000 vittime civili. È un invito alla memoria che si rivolge principalmente alle giovani generazioni. Un evento realizzato unitamente alle associazioni combattentistiche d'arma in collaborazione con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, dell'Università degli Studi del Molise e del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso. A sottolineare l'importanza del ricordo il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano. Ricordi terribili ma con un risultato straordinario perché lì si è dimostrato che siamo un paese unito che nei momenti difficili sa fare grossi sacrifici. All'epoca erano veramente sacrifici dolorosi per quelli che sono caduti, per i feriti e per le famiglie. Quindi oggi qui a Campobasso si ricorda questo, un sacrificio che non è stato perso. Speriamo che questo può diventare un messaggio per il futuro. Noi andiamo incontro a un momento difficile dove la sicurezza del Paese viene inquinata e viene alimentata da fatti molto molto difficili da gestire come il terrorismo e quindi mai più di oggi bisogna ricordare questi uomini e queste donne che hanno dato la vita cento anni fa però che hanno la prospettiva di non fermarsi mai. Bisogna essere uniti, bisogna essere convinti che la libertà va difesa senza sé e senza ma. E da questa bella città, una bella giornata, questo messaggio credo sia il più chiaro e bello possibile. Le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale sono iniziate di primo mattino con la Santa Messa al Monumento dei Caduti, alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni. Ricordare una data storicamente dolorosa per la nostra storia come l'ingresso nella Prima Guerra Mondiale dell'Italia vuol dire anche riflettere profondamente e far sì che simili tragedie non accadano più, ha commentato l'onorevole Laura Venitelli. In ognuno dei 136 borghi del Molise c'è un cippo che riporta i nomi dei caduti della Grande Guerra, oltre 5.000, per lo più contadini che conoscevano solo il proprio dialetto, mandati a morire sul Monte Grappa o lungo la linea del Piave, ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale, Michele Petraroia. Ad un secolo dalla fine della guerra di posizione, precisa il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, mi auguro che simili i conflitti non abbiano più a ripetersi e che la scuola, come la politica, trovino le giuste misure per descriverne le atrocità e prevenirne le conseguenze. Ed ora una notizia di cronaca, non rischia la vita ma è ancora sotto osservazione nel reparto di chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il 31enne di Vinchiaturo investito da un muletto che stava facendo manovra mentre lavorava in un'azienda di guardiareggia. Le sue condizioni di salute per fortuna non sono gravi, tanto che al giovane potrebbero bastare pochi giorni di prognosi. Il 31enne è stato accompagnato in ospedale dai colleghi. I medici hanno immediatamente segnalato il caso e i carabinieri della compagna di Boiano, che ora stanno indagando per ricostruire le modalità dell'incidente. A Lanciano, grande partecipazione da tutta Italia per la manifestazione nazionale non brina, salviamo l'Adriatico. Dal Basso Molise presente l'amministrazione di Termoli e il Movimento 5 Stelle insieme ad altre associazioni. Vediamo. Il cattivo tempo e la pioggia battente non hanno fermato la manifestazione nazionale di Lanciano non brina, salviamo l'Adriatico organizzata dalle associazioni ambientaliste per dire no alla trivellazione nell'Adriatico e alla ricerca di idrocarburi. Tantissimi sindaci dei comuni abruzzesi presenti con i rispettivi confaloni, ma anche una delegazione dell'amministrazione sbrocca di Termoli e alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle molisano, il Partito Comunista dei Lavoratori e altre associazioni, tra cui Greenpeace. È importantissima perché è uno di quei momenti in cui i territori, le comunità locali fanno sentire la propria voce, dicono al Governo centrale quello che bisognerebbe fare per tutelare il territorio, per tutelare le economie locali, il turismo, la pesca sostenibile. Bisogna farsi sentire. Tutto il Mediterraneo nel suo complesso è il mare più appesantito dai traffici e c'è già una dispersione di idrocarburi enorme. L'idea di venire a petrolizzare l'Adriatico è un'idea da questo punto di vista sciagurata. Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco la penna di Vasto, seriamente preoccupato per la nascita di un pozzo tra Vasto e Termoli. Non ho convinto, non ho deciso. Urliamo ancora una volta tutto il nostro dissenso, la nostra rabbia, nella speranza che qualcuno ascolti i territori. Questa è la motivazione e la ragione di questo nostro incontro qui. I confaloni dell'Abruzzo sono qui ad esprimere il dissenso verso alcuni provvedimenti che si sono adottati. Lo abbiamo già fatto in passato, lo continuiamo a fare oggi, lo faremo sempre, fin quanto questa che per noi è una guerra da vincere non sarà vinta. Ieri a Lanciano, dati alla mano, erano circa 50.000 persone, 482 tra associazioni, comitati e enti, per dire no alla petrolizzazione dell'Adriatico e allo sblocca Italia. Una mobilitazione di massa per combattere dunque l'ennesimo scempio messo in atto dal governo sul territorio nazionale. E parliamo ora di formazione, un settore in continuo stato di agitazione. L'assessore Arramo Michele Petraroia, numeri alla mano, ha risposto all'accusa di mobilismo mossa dai sindacati. 600.000 euro per i voucher formativi, altri 500.000 euro stanziati dalla Giunta il 22 gennaio scorso per replicare l'iniziativa Alta Formazione in Rete, ai quali si aggiungono 3.500.000 euro dei tirocini previsti nell'ambito del programma Garanzia Giovani, in via di definizione un altro bando dell'importo di 350.000 euro destinato ai lavoratori in mobilità. Ciò che la Regione Molise sta tentando di fare, ha spiegato Petraroia, è dare un segnale di novità rispetto al passato e di indirizzo verso un nuovo modo di concepire il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, in un'ottica integrata che culminerà con la nuova legge regionale in materia, attualmente in fase di concertazione. E cambiamo argomento, densa gli appuntamenti la prossima settimana per i consiglieri al Comune di Campobasso, che torneranno a riunirsi domani in assise civica, con all'ordine del giorno il conto consuntivo non discusso nella precedente seduta. Si tornerà poi in aula il prossimo mercoledì 27 maggio per la seduta monotematica sul forno crematorio e venerdì per l'urbanistica. Intanto non si spengono le polemiche tra maggioranza e coalizione civica. Vediamo. Agenda fitta, quella della prossima settimana per i consiglieri di Palazzo San Giorgio, che torneranno a riunirsi in assise civica domani lunedì 25 maggio, dopo le polemiche legate all'ultima seduta in cui è venuto a mancare il numero legale proprio quando all'ordine del giorno c'era l'approvazione del rendiconto della gestione 2014. Un episodio condannato ampiamente dalla minoranza che ha parlato di una profonda spaccatura tra le fila della maggioranza a danno dei cittadini. Si tornerà in consiglio anche mercoledì e venerdì per affrontare in seduta monotematica la questione relativa al forno crematorio e quella sull'urbanistica, uno dei tanti settori al palo per gli esponenti della coalizione civica. Abbiamo chiesto un consiglio monotematico sull'urbanistica che ci sarà la prossima settimana, denunciando il fatto che sono settori insieme ai lavori pubblici che veramente stanno al palo, ma posso citare anche altri settori, noi aspettiamo ancora il bando sulla mobilità urbana, noi aspettiamo ancora la sistemazione del terminal, del sovappasso, anche il discorso sulla metropolitana leggera, così come aspettiamo i piani attuativi del piano casa, deliberati dalla giunta regionale, cioè una serie di questioni che questa maggioranza ancora non porta a termine. Cito come disattenzione che questi amministratori hanno palesato a tutti i cittadini il fatto che non sono stati neanche in grado di drenare risorse sull'edilizia scolastica. Abbiamo perso un'opportunità qualche giorno fa che altri comuni come Termoli, Sernia, la provincia di Campobasso hanno benissimo colto. Bene, il Comune di Campobasso per il 2015 ha avuto fondi pari a zero, lo ribadisco zero, e questo palesa la incapacità gestionale ed amministrativa di questi signori. La mancanza del numero legale nella seduta del Consiglio Comunale del 20 maggio ha replicato piccato il sindaco Battista e una circostanza non simpatica ma contemplata, che pur non avendo come non ha un significato politico non deve verificarsi nei momenti importanti come quelli dell'approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio, ha continuato Battista, è un documento di grande rilevanza, adottato già dalla Giunta tornerà in aula per l'approvazione definitiva lunedì dopo l'analisi e il confronto con le minoranze inassise. Non è certamente l'assenza di un consigliere che mette in discussione l'unità critica del centro-sinistra alla città di Campobasso, ha poi concluso il primo cittadino. Grande successo in termini di partecipazione per la settimana del buon invecchiamento. Per questo motivo l'assessore alle politiche sociali del Comune di Campobasso, Alessandra Salvatore, ha immediatamente ribadito che nel 2016 riproporrà la seconda edizione. Una settimana di confronto e di una più approfondita conoscenza del mondo degli over 65 e dei problemi legati all'aumento dell'età. La collaborazione con l'ASREM è l'unimo l'estata molto proficua, ha commentato Alessandra Salvatore, e l'obiettivo per la seconda edizione sarà quello di interessare non solo gli over 65, ma anche le persone più giovani che avranno modo di approcciarsi alla cosiddetta terza età con maggiore consapevolezza. Nell'ambito della giornata nazionale della Legalità 2015, il gruppo Scout Termoli 3, e la diocesi cittadina, hanno organizzato un incontro tematico incentrato sulla figura dello scout, sacerdote anti-camorra Don Peppe Diana, assassinato il 19 marzo del 1994 a Casal di Principe. Al convegno ha preso parte anche il giornalista di Repubblica, Salvatore Sardo. Vediamo. Per amore del popolo non tacerò, è questo il titolo del convegno che si è svolto nella giornata della Legalità Termoli presso il Cinema Sant'Antonio, un incontro organizzato dalla diocesi cittadina in collaborazione con il gruppo Scout Termoli 3, per sensibilizzare gli alunni delle scuole secondarie, nautico e ragioneria, ma anche l'opinione pubblica al concetto di giustizia. E per ricordare quelle figure come Don Peppe Diana, che hanno pagato con la loro vita la lotta contro la camorra? Credo che sia sempre un fatto importante ricordare soprattutto chi ha dato la vita per cambiare quello che di cattivo c'era, la malapianta che c'era e c'è ancora nei territori. Per cui io sono qui per ricordare soprattutto la figura di Don Peppino Diana, ma anche altre vittime innocenti della criminalità. tante vittime che negli anni sono state dimenticate e soprattutto sono stati dimenticati i loro familiari, perché dopo aver subito questa tragedia sono caduti nell'oblio, ma nell'oblio di tutti e anche da parte dello Stato, di chi doveva in qualche modo tutelarli e hanno avuto sicuramente forse in molti casi più spazio i carnefici che non le vittime. E questo è un problema per le nuove generazioni perché oggi hanno bisogno di testimoni, testimoni credibili. Queste persone invece hanno fatto la resistenza contro la criminalità ed è giusto ricordarle. Don Giuseppe Diana venne assassinato il 19 marzo 1994 nella sacristia della chiesa di San Nicola a Casal di Principe perché non voleva piegarsi alla volontà della malavita. Lo stesso destino che toccò a Giovanni Falcone di cui ieri si è celebrato l'anniversario della propria uccisione. Figure queste come tante altre che devono diventare memoria storica in un paese che troppo velocemente dimentica i propri martiri, mitizzando invece i carnefici. Il comune di Pizzone che partecipa alla rete dei borghi della lettura, un progetto ideato da Roberto Colella e Davide Vitiello, ha lanciato l'iniziativa della vendita delle case a un euro per gli scrittori. Una commissione di esperti guidata dal sindaco di Pizzone, Letizia Diorio, provvederà alla selezione dei candidati sulla base degli immobili a disposizione del comune. Lo scrittore selezionato dovrà poi firmare un contratto impegnandosi a ristrutturare l'immobile entro un anno dall'acquisto. Scaduto il termine, in caso di mancata ristrutturazione, l'interessato dovrà versare una penale di 1000 euro al comune di Pizzone. Sono ammessi alla selezione esclusivamente gli scrittori. Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 luglio. E ci spostiamo ora ad Isernia, dove è stato inaugurato un orto botanico produttivo. L'iniziativa è nata da un progetto proposto dalla cooperativa Lavoro Anch'io, dall'Associazione Produttori Apistici Molisani e dall'Università degli Studi del Molise. Percorso dei Sensi è il nome dell'iniziativa volta all'integrazione lavorativa di persone disabili. Vediamo. Percorso dei Sensi, orto botanico produttivo. Questo è il nome del progetto presentato a Isernia presso la cooperativa Lavoro Anch'io. Un interessante percorso volto all'integrazione lavorativa di persone disabili a disagio sociale. Intenso il lavoro svolto dalla cooperativa Lai in collaborazione con l'Associazione Produttori Apistici Molisani e il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi del Molise. L'iniziativa che noi abbiamo condiviso dal primo momento che la cooperativa Lai si è presentata presso i nostri uffici, anche perché sono cose che faremo sicuramente insieme nel futuro, mettendo a disposizione dei boschi, degli ettri di terreno nelle valli e della montagna, proprio per cercare di aiutare a venire incontro a queste persone bisognose. In seguito alla conferenza stampa di presentazione del progetto, è stato possibile visitare l'orto botanico sito in via Dominico Antoniglia a Sant'Agapito. Suggestivo è il taglio del nastro per l'inaugurazione dell'attività, in occasione del quale è intervenuto anche Monsignor Camillo Cibotti. Un eccellente risultato, dunque, è quello raggiunto dai ragazzi della cooperativa Lai che da anni lavorano la ceramica, molti meriti da essi conseguiti in merito all'attività. Questa nuova iniziativa è uno spiraglio innovativo per i ragazzi della Lai che saranno impegnati nella coltivazione di diversi prodotti. Diventa così delicato e importante il rapporto con la natura, dal quale essi potranno trarre sicuramente sani stimoli. E parliamo adesso di scuola perché gli studenti del liceo Manzù di Campobasso si sono aggiudicati il terzo posto al concorso nazionale Il Cibo nella Bibbia, ricercare e condividere il pane. Si tratta di una iniziativa didattica nell'ambito di quelle legate all'evento dell'Expo 2015 di Milano e rivolte a tutte le scuole d'Italia. Gli studenti del liceo Manzù sono stati premiati a Milano per aver realizzato un cortometraggio che a partire da un'attenta lettura del testo biblico e libro di Ruth ha dato loro la possibilità di riflettere e approfondire le problematiche connesse all'attuale crisi economico e sociale. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Previsioni del tempo per lunedì 25 maggio. Insiste l'azione di una circolazione instabile sull'Adriatico in graduale trasferimento verso i Balcani. Le nostre regioni del sud-est risentono quindi di condizioni di variabilità. Ne consegue una giornata all'insegna del cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite alternate ad addensamenti maggiori nel pomeriggio, con qualche acquazione nelle zone interne, meglio lungo le coste. Temperature stazionarie, un lieve aumento, ventilazione debole e variabile, con mari quasi calmi o al più poco mossi. Passiamo alle temperature. Campobasso minima 8, massima 18 gradi. Isernia minima 12, massima 19 gradi. Termoli minima 16, massima 21 gradi. Il meteo è stato offerto da Da oltre 25 anni a Santa Croce di Magliano, le Officine Pilla progettano e realizzano veicoli per l'igiene urbana. Officine Pilla. Artigiani italiani. Il meteo è stato offerto da